Il giorno e la storia Oggi è il 23 febbraio 1974 L'esercito singlionese chiede il riscatto per Patty Hearst 1958, i ribelli castristi rapiscono Fangio 2002, rapita Ingrid Betancourt Commenta il fatto del giorno Virman Cusenza, direttore del Messaggero La verità svelata da John Keats La verità svelata da John Keats